e sempre qui con lorenzo visto che di dietro abbiamo questi bellissimi archi perché sono belli anche esteticamente in realtà lorenzo chiacchi sono questi perché ce ne sono di vario tipo no sì esatto allora sostanzialmente questi sono tutti archi scuola quindi sono archi che vengono utilizzati per per l'insegnamento del tiro con l'arco ai neofiti quindi per per dare in là all'attività agonistica e l'attività ludica diciamo anche così sono tutti dotati di una parte centrale due flettenti una corda che sono la base dell'arco quando non c'è montato nulla quindi non ci sono montate stabilizzazioni o mirini o altri ausili si parla di arco nudo ed è una divisione che viene utilizzata anche nelle nostre gare quindi riconosciuta dalla federazione poi l'altra divisione è l'arco olimpico quello di cui parlavamo prima della maggior parte degli archi utilizzati anche in questa gara giovanile e poi c'è un ultimo arco che è questo che è un compound questo è sempre un arco scuola ma si chiama compound perché è composto sia da una parte centrale rigida arco e anche delle carrucole che aiutano lo sviluppo della forza in trazione quindi questo è molto leggero quando quando si è in ancoraggio quindi si è nella fase finale del tiro e ma è molto più duro da aprire perché oppone una forza diversa ma è una tutta una tipologia di arco che è nata per la caccia negli stati uniti quindi questa è un'altra cosa che è entrata nella nostra federazione ma ha una nascita diversa ed è così piccolo quindi non diventa così lungo no no questo qua è finito così è finito così ce ne sono anche di più grandi di più di più abbondanti insomma di misure differenti questo è molto è molto piccolo ma è un compound giusto per insegnare ai ragazzi come come si tira anche con questo tipo di arco poi ce ne sono tanti altri c'è il lombò c'è l'arco storico ci sono tutti quegli archi che hanno la l'origine da quello che si utilizzava una volta dagli indiani quello che si faceva in giovani età intrecciando le corde poi utilizzando bastoni di saggina sono per poter fare le frecce sono per fare tutte le cose simpatiche che si faceva da piccoli poi dopo la gente crede che il tiro con l'arco spesso e volentieri sia soltanto una cosa per giocare in realtà come ti ho detto prima c'è una federazione dietro c'è una storicità anche di risultati olimpici perché noi per cinque olimpiadi di fila abbiamo vinto una medaglia per il medagliere azzurro quindi insomma sono non siamo soltanto i ragazzi che vanno a tirare le frecce al fine settimana abbiamo una storia dietro importante insomma importante allora adesso lascio da parte la parte istituzionale di Lorenzo perché adesso è ovvio che gli devo chiedere la tirata pessima che tu hai fatto ci sono dei delle delle tirate dove dici madonna e ridono tutti quelli intorno a te sì assolutamente in realtà hanno riso poco perché ho cominciato insieme a un altro gruppo che ha fatto i miei stessi errori quindi nelle prime lezioni anche se le distanze non erano proibitive non sai come ti devi mettere non sai come posizionarti l'istruttore ti insegna anche bene ma tu vuoi fare il fenomeno della situazione dice no ma lo so fare e la prima freccia è andata direttamente piantata nel muro della scuola che ci ospita quindi come tanti di noi abbiamo fatto il muro della della palestra la gruviera poi alla fine è diventato anche un una cosa una sorta di gioco cioè le freccette con questo è il mio questo c'era le firme sotto perché ognuno aveva aveva la sua poi è cambiata la preside ci hanno fatto riverniciare tutto il muro e vabbè succede ecco ma no era una cosa storica perché voi siete famose quindi la gente aveva un ricordo si esatto se si fosse stato un arciere famoso probabilmente quel buco sarebbe rimasto rimasto nel nostro caso no era semplicemente un arciere scarso allora ringrazio Lorenzo che è stato qui con noi ci ha dedicato tanto il suo tempo anche perché fuori intanto c'è la competizione quindi deve tornare dietro le file dei suoi ragazzi grazie davvero a voi vi invito a venire a provare vi invito a guardare sul sito come ci diceva prima elisa esatto noi abbiamo sia la pagina facebook del comitato regionale quindi arco emilia romagna abbiamo il sito del del comitato regionale sempre arcoemiliaromagna.org e c'è il sito della federazione che è fitarco trattino del meno italia.org dove ci sono informazioni non relative soltanto alle realtà locali ma anche quelle nazionali con immagini video insomma visto che voi siete una web tv avete avete possibilità di vedere anche altro materiale lì sopra con tutti i filmati anche relativi agli ultimi campionati italiani o alle manifestazioni nazionali. Perfetto allora dovete assolutamente venire a provare questa splendida disciplina che vi insegna la disciplina io ringrazio Lorenzo perché fuori c'è la gara quindi lo richiedono grazie per il tempo che ci hai dedicato e in bocca al lupo per tutto grazie viva al lupo a voi